Un momento anche importante per il vostro progetto? Sì, un momento importante, questo è l'inizio ufficiale di questa stagione sportiva dalla quale ognuno di noi si aspetta molto, sia dal punto di vista giovanile che dalla prima squadra. Questo è il primo appuntamento ufficiale appunto dove la prima squadra si raduna e dove iniziano gli allenamenti in vista di questa stagione importante. Qui diciamo a livello struttura sportiva è la sede naturale di questo progetto? Sì, questa è la sede, questa nuova associazione sportiva che è appunto la New Best Basket che nasce da questa incontro-unione di altre associazioni sportive. Fate conto che abbiamo più di 2000 giovani atleti su un territorio molto vasto che va da Brescia fino al Lago di Garda e il punto nevralgico è proprio qui dove abbiamo una struttura eccezionale, quindi ringrazio anche il comune di Mazzano per il loro aiuto, dove abbiamo la nostra sede, dove abbiamo la palestra Pesie e tutte le varie strutture che sono indispensabili per fare questa attività. Alberto Vucci ha associato questo progetto, è importante perché è un testimonio di l'uso? Assolutamente, direi che è fondamentale, è una delle sue esperienze che sposa un progetto comunque relativamente piccolo come il nostro e nuovo, proprio la conferma che anche un uomo, un allenatore di grande carisma come lui crede in questo proprio progetto e ci darà sicuramente la prossissima mano. Per quanto concerne il progetto che coinvolge i giovani, quella è la chiave di lettura di questo New Basket? Assolutamente sì, noi crediamo a differenza di molti che puntare sui giovani sia fondamentale anche con le nuove regole della FIP e quindi noi vogliamo fare oltre alla quantità, quindi ripeto, 2000 atleti e un sacco di squadre, vogliamo fare anche la qualità, infatti quest'anno avremo ben 10 giocatori del 92-93 aggregati alla prima squadra e chiediamo che 4-5 di questi ci possono dare un'ottima mano anche in Serie C.